Una grande festa, quella che si è svolta a Fosse, piccola frazione di Sant'Anna d'Alfaido in provincia di Verona. Erano tutti presenti, giovani e meno giovani, sacerdoti e laici uniti attorno al Vescovo per un momento centrale per la comunità, ovvero la consacrazione della chiesa parrocchiale, una chiesa che è stata ed è ogni giorno punto di riferimento, compagna di viaggio della gente di questo territorio. La chiesa è consacrata a Dio, cioè è il luogo, il tempio di Dio per il popolo cristiano. Il quale popolo è diventato il popolo cristiano mediante la consacrazione battesimale, che è la consacrazione più radicale. Questa sera ricorderemo ai fedeli che questa consacrazione della chiesa e dell'altare in particolare ha sempre matrice battesimale, e quindi ci ricorda quando entriamo in chiesa siamo dei patrezzati che ci nutrono della parola di Dio e dell'Eucarestia. È sempre un evento anche suggestivo, vorrei dire. Tanti momenti particolari che hanno caratterizzato la cerimonia, dalla deposizione delle reliquie dei Santi all'unzione delle dodici croci che marcano lo spazio consacrato, lo spazio dedicato interamente per sempre al culto cristiano, così come ha spiegato il Vescovo, sino all'unzione dell'altare. Sono segni importanti che raccontano l'appartenenza di questa casa e di tutti coloro che frequentano questa casa, la chiesa, a Cristo. Qui, tra queste mura benedette, è presente l'Eucarestia, qui si celebrano tutti i momenti della vita, qui si sta insieme come una grande famiglia, il popolo di Dio. La chiesa oggi festeggia anche i 50 anni della costruzione, poi il fatto che venga consacrato l'altare, consacrate le mura della chiesa, è un richiamo al fatto che la comunità, noi dobbiamo essere la santità nel mondo, noi dobbiamo essere i consacrati per il mondo, coloro che portano il Vangelo, che sono la Bibbia moderna. Ecco, e questo è il senso, il fatto di consacrare una chiesa significa, l'importanza non è tanto legata ad avere delle mura consacrate, ma ad essere persone consacrate, uomini che portano il Vangelo oggi.